E' un professionista, ti ho detto. Ieri sera, hai intercettato un messaggio cifrato. Sul tesoro di Mussolini, è la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. La prefettura è un mattatoio. Ci servono solo tre uomini. Devono per forza essere uomini. Il ladro. L'esperto di esplosivi. Viva l'anarchia. L'autista. Giovanni Fabri, il campione della mille miglia. Fabri non è affidabile. Perché? Vabbè, dai. Che cosa rubiamo? Ladro. Lascia stare Ivonne. Se no vuoi finire a peso. Tu e i tuoi amici straccioni. Voglio mica finire a peso per una svelchina, eh? Non ti prometto niente. Quando la gente ci guarda, vedete pezzenti. Io no. Io vedo dei virtuosi. E adesso l'occasione per dimostrarlo. Giù, giù, giù! Qualcuno mi ha detto che nessuno è più furbo della storia. No! No! Fanculo la storia. E' anche se. 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 E' anche se.